Buongiorno amici, oggi sabato 20 giugno, una data importante per Iolao, da Iolao 77, oggi parliamo di indipendentisti sardi e comunque gli indipendentisti nostrani e comunque professarsi indipendentisti senza sapere quanto grande è stato il nostro popolo in tempi antichi, senza aver studiato la grande civiltà sarda non serve a niente. E comunque pensare che sviluppare economicamente la nostra nazione sia la strada maestra per la libertà è una illusione. La strada maestra è sapere chi siamo stati, da chi discendiamo e incentivare il nostro orgoglio di popolo, acquisire culture e giuste informazioni, discernere tra i messaggi scolastici e mediatici effettenti che tendono a screditare la nostra storia e le nostre genti e le giuste azioni compiute da eccellenze della nostra nazione è fondamentale. È altamente meritorio fare fronte comune durante manifestazioni indette per tastare il polso ai politici italiani che siedono in regione ma non basta. Non basta manifestare per informare i politici che vi faremo sapere quando pensiamo che un patriota ucciso da uno stato d'emocidio un anno fa se la è cercata. È stato detto anche questo. Dodore secondo qualcuno se la è cercata. E non basta nemmeno compiere azioni dimostrative tendenti a protestare se lo scopo ultimo è chiedere. E non basta attivarsi contro sfratti e pignoramenti se si pensa che il nostro compito sia finito nel momento in cui le forze dell'ordine se ne vanno senza aver compiuto la missione. A queste emergenze bisogna lavorare in maniera intelligente e costruttiva per trovare soluzioni. E la soluzione non può essere attivarci ogni volta che un nostro fratello rischia di perdere i suoi beni. E comunque non basta lottare per l'emergenza senza una corretta strategia che guardi al futuro. Benvengano le manifestazioni che certificano la nostra indisponibilità da accogliere scogli emigranti. Ok? Scendere in piazza per contrastare lo spopolamento della nostra nazione, lo stupro della nostra terra, se dobbiamo sempre delegare le decisioni ad uno stato straniero. Non serve andare a votare alle elezioni indette da chi ci colonizza. Il cappello in mano di fronte a chi rappresenta lo stato non ha mai portato risultati decenti, solo illusioni. Non basta essere un assiduo commentatore della voce dei sardi se non si conosce la differenza tra stato e nazione, la differenza tra indipendenza e libertà. Non serve aver capito che industrializzazioni imposte dall'alto siano penalizzanti per la nostra nazione. Oggi forse lo abbiamo capito, ieri no. E quello che oggi ci sembra di aver capito domani sarà superato. La storia è ciclica, la Sardegna è rurale, è contadina, lo è sempre stata. Le nostre eccellenze derivano tutte dalla nostra ruralità a misura di uomo. Ieri avevamo la smania di abbandonare in fretta la civiltà contadina che ha fatto grande il nostro popolo. È finalmente ora di tornare sui nostri passi. Il tempo del ritorno c'è un articolo su Yolaw 77, leggetelo. E comunque non è sufficiente disertare i centri commerciali e fornirci di cibo dal nostro vicino contadino. Se non abbiamo capito cosa sono le multinazionali, le imposture della grande industria commerciale, la truffa, la grande truffa, immensa della società dei consumi. E comunque gli indipendenti sinostrani sanno che senza libertà decisionale non può esistere sviluppo. Bontà loro, lo hanno capito, finalmente. Salvo affermare in maniera convinta di essere anche italiani, di essere anche europei o addirittura cittadini del mondo. Se conoscessero la vera condizione di essere cittadini, forse ragionerebbero diversamente. È inutile dichiararsi indipendentisti se poi si aggiunge alla definizione la parola di sinistra o anche di destra e non cambia niente. Lascio a voi che usate il cervello valutare se la libertà può essere di destra o di sinistra. E comunque chi si vanta di essere indipendentista e conosce i personaggi storici che hanno attraversato la nostra terra solo da frequentazioni scolastiche non è un vero indipendentista. gente che conosce Grazia Deleda, personaggio costruito dal sistema dominante e ignora Francesca Sanna Sulis, eccellenza popolare che non viene menzionata dai libri scolastici. È comunque chi si vanta di essere indipendentista e non ha mai studiato macroeconomia, la funzione della moneta, le tecniche elitarie di distrazione di massa. Chi non ha studiato la globalizzazione e il mondialismo non è un vero indipendentista perché certe cose non le ha capite. Chi non ha capito che lo Stato non potrebbe e non deve imporre imposte alla gente se non in casi particolarissimi non ha capito cosa sia la vera libertà, non ha capito a cosa servono gli Stati, non ha capito che da millenni una manica di famiglie criminali specula sulla dabbenagine della gente. Chi pensa che una millantata autonomia sia utile alla nostra gente non ha capito che la conquista della libertà finalizzata alla costruzione di una società etica è meritocratica. L'affermazione del diritto divino è il bene supremo a cui tutti gli indipendentisti e tutti gli esseri umani dovrebbero ambire. E comunque se non l'avete capito la politica, quella statale e quella regionale è distrazione di massa. Dal canto mio osservo voi e osservo le mie regole individuali che riassumo così. Primo, l'Italia e le sue forze militari dislocate in terra di Sardegna sono abusive. Secondo, le elezioni regionali sono elezioni italiane. Terzo, partecipare alle elezioni italiane in terra di Sardegna significa riconoscere la legittimità dell'Italia a occupare la nostra terra. Quarto, i sardi non sono italiani, anche se qualche sardo crede di essere italiano. Quinto, le prossime elezioni alle quali parteciperà Iorao saranno quelle nazionali sarde. Sesto, la Sardegna e il suo popolo sono nazione, nazione che ha diritto, che lo vogliono l'Italia a lottare per la propria autodeterminazione. Esistono indipendentisti che dicono che la Sardegna non è nazione. Cioè, stendiamo un velo piettoso, un velo da circo. Le energie che dovremmo mettere in campo sono per trovare soluzioni che decolonizzano. I partiti politici nati in terra di Sardegna o altrove non possono decolonizzare un bel niente, perché agiscono secondo il diritto interno del colonizzatore. E quindi che facciamo? L'articolo 5 della Costituzione italiana, guardate, leggettelo che è qualcosa di stratosferico, mamma mia. Facciamo organizzare il cenone di Natale al Capone sacrificale? Questo fanno i partiti indipendentisti italiani. Se per voi tutto questo non è chiaro, non so più cosa scrivervi. Farò un disegnino. Le ideologie politiche, peggio ancora quelle partiti che non giovano alla causa di libertà per la nazione sarda. il nostro obiettivo non è, o non dovrebbe essere, quello di interessarsi di politica italiana. Guardate che la politica regionale sarda è politica italiana. E smentitemi se ci riuscite, ma non ci riuscirete. Il nostro obiettivo non è quello di interessarsi di politica italiana, ma di puntare dritto alla liberazione della nostra terra attraverso la decolonizzazione.